Io vorrei ringraziare il consigliere De Priamo perché ovviamente in Commissione siamo sempre d'accordo sullo svolgimento degli argomenti che portiamo avanti, così come devo dire anche con il resto della Commissione e con il resto dell'opposizione. Volevo aggiungere che per quanto riguarda questo ordine del giorno, come abbiamo già discusso insieme, cambiando semplicemente alcune piccole cose, in realtà noi voteremo favorevoli e quindi le parole da aggiungere sono al fine di provvedere con una percentuale congrua degli introiti ottenuti dal contributo di soggiorno, togliendo quindi almeno del 10% venga investita nella promozione turistica della città di Roma, togliendo quindi destinandole ai municipi con rilevanza turistica perché ovviamente per noi la rilevanza turistica è per tutti i municipi e quindi per tutta Roma. Grazie.